Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per fare un video che in realtà ho già fatto anni fa e che vi ripropongo con tutte le nuove skin che sono uscite, ma soprattutto con tutti i nuovi brawler, perché adesso abbiamo 74 brawler. Tant'è che ve lo dico, andrò molto veloce, non perderò tempo su ogni brawler, su ogni skin. Su alcune magari sì, ma su altre vi dirò semplicemente è questa, è questa, è questa. Comunque buon Natale ragazzi, perché se tutto va come deve andare, quest'oggi il video, o meglio questo video, dovrebbe uscire a Natale, quindi tanti tanti auguri ragazzi, fatemi sapere che cosa vi mangerete oggi a pranzo al pranzone e che cosa state ricevendo come regali. Mi raccomando un bel mi piace per supportare Brawl Stars e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto vi ricordo ma al solito il codice creatore GGYT, tutto attaccato nel shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi ragazzuoli, ogni settimana scade e lo dovete reinserire. Comunque lo volevo fare come speciale Natale perché tante volte nei commenti mi chiedete GGYT ma quante skin hai, GGYT ma quali sono i tuoi skin preferite e oggi vi dirò di ogni brawler qual è appunto la mia skin preferita. Fatemi sapere poi nei commenti anche qual è la vostra skin in generale preferita, io ve lo dirò durante il video di oggi, magari alla fine se me lo ricordo, e ci tengo a dire che teoricamente dovrei avere tutte le skin tranne alcune delle ultime della Lega delle Stelle, alcune purtroppo non sono riuscito a sbloccarle e soprattutto quelle gold e silver. Per quanto riguarda tutte le altre le dovrei avere perché le shoppo sempre tutte, tant'è che, raga, guardate, il mio shop è letteralmente vuoto di skin, proprio perché le prendo tutte. Ma iniziamo ragazzi perché di Shelly vi dico immediatamente che la mia preferita è Shelly strega, più che altro per il discorso della sua animazione, secondo me raga è davvero bellissima. Ragazzi per quanto riguarda Colt diciamo che devo barare perché tra quelle che sono già uscite io vi direi Colt della giungla, bellissimo. Ma raga questa qui che deve uscire gratuitamente, poi prossimamente non... Ma neanche qui, devo arrivare proprio nello shop, raga, quella nuova, quella dove sembra, non lo so, un dio dell'Olimpo, non lo so ragazzi è veramente troppo bella, quella della schermata di caricamento che sta su in cielo. Per quanto riguarda Bull ragazzi ne ha diverse, molto carine, eh, io poi adoro per esempio quelle troll, quindi andrei molto anche su questa qui, però raga vi dico Bull Leone è veramente figo e accattivante soprattutto ragazzi. Poi andiamo invece con la signorina Rosa, che era uno di quei brawler che aveva pochissime skin, invece poi alla fine della fiera gliene hanno fatto uscire parecchie, e qui ragazzi vado di nuovo su una skin uscita per Halloween e vado su Rosa Brawl o Win. Veramente molto belle anche le animazioni, ma diciamo che la maggior parte delle skin le sto scegliendo per le animazioni. Allora raga, per quanto riguarda Jessie io vi dico che banalmente questa qui estiva è una delle mie skin preferite in assoluto, però ragazzi Jessie Cavaliere Nero è veramente bella, 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 eh, quindi io vi dico Jessie Cavaliere Nero. Dynamite Regani ha veramente tante, forse troppe, e sono sempre stato indeciso tra Dynamite Tengu, il Dynamite Ammufito che comunque è bellissimo, e appunto Babbo Dai Natale, ma è geniale anche Chef Dynamite. Però raga, anche un po' per lo spirito del Natale, forse sarà un po' spinto dal giorno di Natale che è quest'oggi, vi vado su Babbo Dai Natale. Raga, Jackie è un altro brawler che ha delle skin pazzesche, ne ha poche ma buone, come si suol dire, ma la mia preferita anche per un discorso di animazioni è assolutamente Jackie Aquascooter, cioè le animazioni di questa skin con l'acqua sono spettacolari. Le ultime skin di Edgar a mio avviso sono tutte fighissime, queste qui mecha, forse uno dei brawler che ha le skin mecha migliori. Però ragazzi, Edgar Orochi, nonostante io non ami per niente i serpenti e gli invertebrati in generale, è veramente bella, veramente, veramente figa ragazzi, tanta, tanta roba. Invece per quanto riguarda Colette, altro brawler che ne ha poche ma buone, ragazzi, la Colette maligna, la prima skin di Colette a me fece impazzire e tutt'oggi, raga, mi piace da morire. Veramente belle anche le animazioni di questa skin, tra l'altro. Poi andiamo con Macy, raga, nuovo brawler, quindi ne ha veramente poche, oltre alla skin ovviamente base, io vi direi Macy, regina della giungla, veramente molto carina. Però, appunto, i nuovi brawler ne hanno poche, raga, quindi non sarà troppo difficile scegliere. Diciamo che non hai proprio... ecco, tipo anche Pearl, non hai proprio l'imbarazzo della scelta. Però ecco, diciamo, Pearl Sottomarino è molto bella, anche se un po' mi triggera il fatto che è un brawler che sostanzialmente nasce come brawler forno e poi una delle sue prime skin è un Sottomarino, vabbè. Crea questa figata, tra virgolette, dell'acquario al suo interno, ma vabbè. Ci sta, eh, ci sta. Allora, raga, per quanto riguarda Lu, io vi dico, il Lu Golem di Pietra, quello delle scorse Lega delle Stelle, sarebbe stata la mia preferita in assoluto, era veramente bella, ma non ho fatto in tempo a sbloccarla. E quindi tra quelle che ho io... e sceglierei quella, ragazzi, eh, però tra quelle che ho io vi dico assolutamente Lu Rubacuori. A me di solito le skin di San Valentino non fanno impazzire, qui tra l'altro ci sarebbe anche Ray Lu, che è molto carino, però, raga, lui è veramente bello anche col microfono, ma anche le animazioni sono belle. Allora, Feng è un altro brawler che non ha proprio, diciamo così, l'imbarazzo della scelta, ma Feng, caboccia, è veramente bellissimo, infatti è anche un Supercell make, molto bello. Sto scegliendo tantissime skin a tema Halloween, ragazzi, me ne rendo conto, ma devo dire che tutti i giochi Supercell a tema Halloween fa sempre delle cose pazzesche. Qui, vabbè, raga, non ve lo dico neanche, anzi, vi dirò di più. A me, dei Charlie, mi piace più la versione standard che quella con la skin. Non fatemi sapere nei commenti se sono l'unico. Ovviamente c'è anche la sua versione del pass, che ovviamente sto per andare a sbloccare. Vi dico, probabilmente sceglierei questa skin qui del pass, Charlie Regina delle Rose, però anche di questa preferisco la versione normale. La versione normale mi piace veramente tanto di Charlie. Mico ne ha poche, ma anche qui buone, perché Mico qua sta feste è veramente fichissima, ragazzi. Cioè, sta skin è veramente bella, bella, bella. Spike, regà, ne ha un bel po', ma quella del tronco di Clash tale, ragazzi, è fantastico. Sì, è veramente molto bella, ma una menzione speciale, ragazzi, a Spike delle Tenebre, che per un periodo è stata una delle mie skin preferite. Però, regà, Spike, tronco di Clash tale, è veramente geniale. Corvo, regà, c'ha delle skin pazzesche. Cioè, se mi doveste chiedere quali sono i brawler di cui avete più il dubbio della skin preferita, ce ne sono un po', eh, dopo magari ve li dirò, ma uno tra tutti è sicuramente Corvo. Corvo testa d'osso è bellissimo, ma anche Capitan Corvo è bellissimo. Vabbè, d'oro e argentato va bene. I mecha, ragazzi, secondo me sono i più belli, cioè le skin mecha Corvo ha le più belle. E poi Corvo Fenice, tra l'altro una skin storica del game, è una delle prime. E io, infatti, ragazzi, andrò un po' col cuore a scegliere Corvo Fenice. È veramente bello. Leon, ragazzi, devo dire che con Leon sono sempre stati un po' timidi, poi hanno iniziato un pochettino a sbizzarrirsi. Potrebbero fare di più, eh, vi dico la verità. Su Leon potrebbero fare un po' di più. Io però comunque vi dico che Leon Spettro, altra skin di Halloween, è la mia preferita. Ma anche perché è quella che, secondo me, gli si addice di più, no? Diventa invisibile, ti fa fare gli jumpscare, cioè vi mette paura. Cioè, secondo me, ci sta, ci sta, ci sta. Vi fa fare questi jumpscare che, secondo me, ci sta da morire. Nita Domatrice, regà, bellissima. Nita è un altro brawler come Corvo che veramente non saprei scegliere. Più che altro perché Nita c'è anche l'orsacchiotto che è devastante in tutte le sue forme, regà. Cioè, l'orsacchiotto è bello in tutte le versioni. Cioè, è bellissimo con tutte le skin, è qualcosa di incredibile. Anche in quella base, cioè, veramente anche in quella base. Però, regà, anche qui, un po' per una questione di attaccamento alle origini, vi dico Nita Rudolph perché è veramente, veramente bella, ragazzi. Cioè, è proprio tanta, tanta roba con l'orsacchiotto vestito, i guanti, fa troppo ridere. Però, ragazzi, per quanto riguarda le animazioni, sì, bellissime tutte. Anche Nita Domatrice ha delle animazioni allucinanti, anche col colpo classico. Ma Nita Balenottera non si butta, sempre con gli effetti d'acqua che su Brawl vengono fuori fantastici. Regà, Brock ha una marea di skin, anche qui molte sono davvero carine, ma Brock Zeus, ragazzi, sta su un altro livello rispetto a tutte quelle di Brock. Anche Brock Zeus, una delle mie skin preferite, in assoluto bellissimo. L'El Primo pure, ragazzi, ne ha tante, secondo me, abbastanza interessanti. Lui è poi uno di quelli che ha queste qui da calciatore. Però, ragazzi, a me fa troppo ridere così con El Brown. Cioè, è troppo bello con sto testone, quindi assolutamente vado con El Brown. Bombardino, ragazzi, che vi devo dire, è un altro che ha tante skin interessanti, ma questa qui del Bombardino Sir Unicorno è spettacolare. È molto carino anche il Bombardino Stregone, che ce l'abbiamo un po' tutti, bastava, ovviamente, fare il Supercell ID e collegare l'account. Molto bella l'idea, appunto, di andare a riprendere lo Stregone di Clash of Clans e Clash Royale. Però, ragazzi, anche per una questione di animazioni, il Bombardino Unicorno è veramente bellissimo. Pocho, vi devo dire la verità, non ha delle skin che mi fanno impazzire. Sarà che un po' questo stile messicano non mi piace proprio troppo e con Pocho, ovviamente, vanno molto su questo stile messicano. Io vi dico il Pocho Punk Rock, perché c'ha delle animazioni allucinanti, ma anche quello di San Valentino mi piaceva particolarmente. Però, appunto, raga, Pocho Punk Rock. Raga, per quanto riguarda Tic, che vi devo dire, Tic Regranchio era bellissima. Il pupazzo di neve spettacolare, anche il Tic Shuki, ma, ragazzi, il Tic Cerbero ha una marcia in più. Cioè, ha nettamente una marcia in più anche da un punto di vista delle animazioni e tutto quello che vi sto dicendo da inizio video. Allora, ragazzi, 8-bit con 8-bit Malware e poi successivamente anche 8-bit Saloon. È stato uno dei primi brawler ad avere anche proprio queste skin costosissime con queste incredibili animazioni. Infatti, mi ricordo, raga, che 8-bit Malware ha creato una marea di hype ai tempi. Poi, devo dire, si sono un po' allentate le idee dei Supercell per quanto riguarda 8-bit e quindi io rimango su 8-bit Malware. Assolutamente bellissimo. Stecca, ragazzi, io ve lo dico, Re Stecca ha una marcia in più rispetto alle altre. Ci sono molte cose carine, anche Stecca Lucciola, ci sta pure Stecca Guardia, ma Re Stecca, ragazzi, anche quando fa la ulti con tutta l'animazione, è davvero tanta, tanta roba. Per quanto riguarda Beryl, invece, regà, altro brawler di cui non mi fanno impazzire troppo le skin. E questa citazione alle megacasse, soprattutto ora che le megacasse non ci sono più perché non ci sono più le chest, assolutamente merita un posticino in questa classifica delle mie skin preferite. Anche se di Beryl mi piaceva anche quella dove era un pallone, soprattutto poi quando ci facevi la ulti, era davvero una chicca. Allora, per quanto riguarda Penny, ragazzi, vi dico, Penny Lepre Nera, bellissima, anche l'elfa era molto carina col mortaio, tutto fatto apposta, doc, natalizio, però ragazzi, Lepre Nera è veramente cattiva. Carl, regà, ha delle skin fuori di testa, lui è uno di quelli come Corvo e come Brock, e vi dicevo che veramente non saprei che cosa scegliere. Però ragazzi, il Domatore di Cinghiali, Carl Domatore di Cinghiali, non lo so, cioè, è differente, è differente. Allora, forse è il caso che acceleriamo un pochino il passo, quindi andiamo, tanto adesso inizierà anche poi una sfilza dei nuovi brawler di cui c'è veramente poco da dire. Per esempio, di Gas, ragazzi, questa qui dedicata tra l'altro agli Z, al team che poi vince appunto la Championship, è assolutamente più bella e particolare rispetto alle altre che ci sono, quindi assolutamente sì. Boh, regà, è un altro di quei brawler di cui veramente non saprei scegliere perché ha veramente delle skin pazzesche, ma anche queste ultime che sono uscite, regà, sono fuori di testa. Boh, boh, regà, pure poi questo gioco di parole è incredibile, per non parlare di queste due che poi uscirono quasi nello stesso periodo che spaccarono totalmente Brawl Stars. E io, regà, infatti, non saprei che dirvi. Tra i due litiganti, perché il dubbio è tra queste due, vi dico che il Babbo Natale gode. Dai, prendiamoci il Babbo Natale perché è troppo bello sto vestitino. Ahem, se regà, la fine della fiera non è che fecero troppe, non è che abbiano mai fatto chissà quante skin, molte sono semplicemente delle color correction, però vi dico, ragazzi, che questa qui forse è quella un po' più, un po' più carina, anche sempre per gli effetti delle animazioni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Stu, la quella nuova, Stu Babbo Natale è davvero molto carina, però, ragazzi, Stu senza testa è veramente figo e torniamo, tra l'altro, con una delle skin di Halloween. Hyper, ragazzi, quest'ultima Piper Mariposa veramente rischia di farmi vacillare, ma la Piper Lunare è qualcosa di incredibile. Molto carine, tra l'altro, quelle di Piper, eh, perché anche quella lì per San Valentino, poi lei che si presta davvero benissimo, ci sta. Però, raga, la Piper Lunare su un altro livello, assolutamente. Pam pure aveva iniziato a non avere skin, cioè, veramente, era una di pochi brawler, non aveva skin ed era una delle prime, poi si è scoperto perché, cioè, gli hanno fatto poi il remodel. E, raga, Pam Regina Cattiva, che, ve lo dico, fa davvero spettacolare, bellissima. Frank, ragazzi, ha delle skin incredibili, a mio avviso, però il Cavaliere Infernale. Certo, se la gioca con il Frank delle Feste, eh, ma il Cavaliere Infernale, ragazzi, cioè, parliamone anche con questa animazione, è davvero clamorosa. BB, raga, per quanto riguarda le animazioni, ce ne sono alcune che mi fanno impazzire, soprattutto di quando lancia la bolla. Per esempio, Zombie, ragazzi, ha veramente una roba veramente fighissima. Però, ragazzi, la BB Ribelle mi piace, cioè, di solito questo stile Ribelle non mi fa impazzire nelle skin, nei personaggi, eccetera, eccetera, ma a lei si addice veramente tanto, eh. Poi, vabbè, special menzione a BB RJ perché, cioè, parliamone, bellissima. Per quanto riguarda Bea, raga, io sono sempre rimasto fedele a Scarabea e rimarrò fedele a Scarabea perché pure quelle nuove che hanno fatto uscire poi non è che mi abbiano mai fatto impazzire. Special menzione a darci nemica a Bea, però, giusto perché è particolare con questa animazione da anni trenta, però, raga, Scarabea, no, non si batte, non si batte assolutamente. Iris, raga, cioè, che vi devo dire, Iris Ares non si batte, assolutamente una delle skin più belle del gioco, proprio, assolutamente. Qui, raga, Griff slitta solo per l'animazione del fatto che si trasforma in una slitta, vince a mani basse. Grom, raga, Grom ha il coniglio, il Grom coniglio, ragazzi, per la Pasqua, che secondo me merita tantissimo anche per un discorso delle animazioni e delle bombe, assolutamente. Bonny, raga, il Bonny Unicorno, vabbè, poi lei ce n'ha anche pochine, eh, ce n'ha anche pochine, molto bella anche Imperatrice Bonny, ma secondo me Bonny Unicorno è proprio più delizioso, è più delizioso, ragazzi, assolutamente. Gelindo, raga, mi ricordavo avesse più skin, davvero ne ha così poche, eh? Vabbè, comunque io vi direi Gelindo Schiaccianoci, è più carino, assolutamente, degli altri. Per quanto riguarda Belle, pure mi aspettavo più skin, mi ricordavo più skin, oh mio Dio, alcune neanche me ne ricordavo, figuratevi. Però Belcorallina è assolutamente più carina, manco me la ricordavo sta skin, molto bellina, eh, ci sta, anche guardate il fucile, che sembra il drago quello lì, della modalità particolare col mostrone, vabbè. Abbiamo poi Ash, raga, che c'ha l'Ash pizzaiolo, ragazzi, cioè, non si discute, Ash pizzaiolo tutta la vita, assolutamente. Per poi finire da Lola, che secondo me c'ha una delle skin più azzeccate della storia, ovvero Lola chizzone, che c'ha anche questo effetto, appunto, con la maschera e tutto quanto, secondo me, lei si addice proprio perfettamente ed è carinissima. Poi abbiamo Sam, raga, che, eh, insomma, allora, Sam è molto difficile, perché, allora, Sam clown del male è spettacolare, cioè, è veramente bella, horror al punto giusto, bellissima. Sam Yeti, cioè, Sam Yeti si commenta da sola, però Imperatore Sam, raga, non lo so, cioè, c'ha quel fascino romano, non lo so, Imperatore Sam, ma le altre due sono clamorose, quelle di cui stavamo parlando due secondi fa. Mandy, raga, secondo me si potrebbero sbizzarrire un po' di più, soprattutto perché c'ha quella ulti particolare, e però io vi dico Mandy Magmatica, davvero clamorosa come skin, bellissima, questa roba del magma la riescono sempre a fare davvero molto bene. Per quanto riguarda Hank, raga, c'ha poche skin, ma buone, perché quello squalo armato è veramente spettacolare, ma ve l'ho detto, quelle che fanno con l'effetto dell'acqua sono tutte belle. Raga, Mortis a me piace davvero da morire con il primo mecha che è uscito, con questo colore violaceo, però, raga, il Mortis Rocchettaro c'ha sempre avuto un fascino particolare per via del pettine, quindi non saprei scegliere tra i due, di conseguenza vado su Mortis Strega Notturna, bellissimo. Che storia, Mortis Strega Notturna. Allora, Tara, 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 ragazzi, vado su Tara Ninja Urbana, la più figa di tutte, secondo me. Poi lo sapete che è praticamente il mio brawler preferito da utilizzare, Tara. Special menzione a Tara Occhio Sidereo, ma Sidereo, anzi, penso, probabilmente, però, raga, veramente, veramente, veramente bella la Ninja Urbana, veramente spettacolare. Eugenio, ragazzi, è uno di quei brawler di cui non saprei scegliere, ne ha veramente poche, ma tra il Ninja, cioè, scusate, tra l'Eugenio Malvagio e l'Eugenio della Palude, nel momento in cui ho visto anche le animazioni dell'Eugenio della Palude, è veramente, non dico tosta perché poi vinci a mani basse l'Eugenio Malvagio, però, raga, anche l'Eugenio della Palude è veramente molto figo. Oddio, raga, di Maxine me ne ricordavo di meno, di Maxine ricordavo di meno. Queste leopardate non le ricordavo proprio, però, raga, Maxine Hermes ha proprio un altro livello spettacolare. Cioè, è veramente molto bella, la utilizzo sempre così, infatti. Però pure quelle leopardate non sono male. Allora, raga, qui io andrò di nuovo su... Io non ci credo. Allora, qui andrò sulla skin di Halloween, perché Conte P, raga, è geniale. È una skin geniale. Cioè, con la torrette Mr. P, che diventa una bara, è una roba geniale. Cioè, non ho veramente altri aggettivi. Semino, ragazzi, si sono un po', secondo me, un po' fermati. Perché, appunto, Semino c'aveva, sto Semino Tropicale, che era la classica skin, da poco conto, vabbè, però ci poteva stare. Poi, Semino Lunare è spettacolare con l'animazione. Poi, secondo me, si sono un po' persi. Cioè, potrebbero fare cose molto più carine, secondo me, per quanto riguarda Semino. E, infatti, andremo su Semino Lunare, che era quello un po' più classico. Byron ha anche stesso discorso di Semino. Secondo me, si potrebbero inventare tante cose su Byron. E io vi dico, Byron, signore del circo, perché ha queste animazioni veramente macabre. Ma un macabro figo. Cioè, a me il macabro non fa impazzire, ma quando è figo, ha il suo perché. Squeak, regà, Squeak Brawler, molto carino, ma secondo me Squeak Fantasma non si batte. È veramente bellissimo. Cioè, mamma mia, tanta roba. Ringio, regà, io vi do dire la verità, non c'è una skin di Ringio che mi piaccia. E quindi vi dico, Ringio Cimbi, che almeno è mezza troll carina e ci può stare. Buzz, regà, invece, ha delle skin carinelle, diciamo così. Perché il Buzz, regista, è carino anche per l'effetto dell'animazione, eccetera, eccetera. Ma io vado su Buzzerella, anche per il gioco di parola che hanno fatto. Ci può stare con questa lingua arcobalenosa, lo yo-yo, ci sta. Qui vi potrebbero fare molto meglio. C'è anche qui, ragazzi, veramente un po' tristi le sue skin. Quindi vi direi di andare su Biker futuristica. Per quanto riguarda Janet, regà, anche lei ha delle skin invece fighe. Perché Janet Lunare è spettacolare. La Janet Fata Oscura è geniale, molto, molto carina. La Janet Valkyria gli si addice da morire perché è perfetta con le ali, eccetera, eccetera. Ma anche la Janet Forza G non è per niente male, cioè molto carinella. Eh, regà, qua è tosta, però io vi direi a malincuore la Janet Valkyria. È tanta roba. Più che altro, ragazzi, perché la Fata Oscura e la Lunare sono belle. Quindi mi dispiace un po' lasciarle fuori, ma dovevo fare una scelta. Qui, ragazzi, secondo me, Otis, Oni, proprio su un altro livello. Perché sì, quello faraonico è carino, ma Oni è proprio, cioè, bellissimo, 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 azzeccatissimo. Buster, regà, pure c'ha delle skin che a me non piacciono. Vi devo dire la verità, quindi andrò su Buster Crocodile. Semplicemente per questo discorso del coccodrillo che è un po' particolare. Gray, ragazzi. Il Fuggitivo, secondo me, è bellissimo. È molto carino. Anche qui ci hanno avuto una bella idea. Anche col Detective, in realtà, eh, ci hanno avuto una bella idea. Con RT, ragazzi, vado proprio a mani basse sull'assalitore. Perché, regà, il pattugliatore... Ci sta. Fai la skin pattugliatore perché gli si addice molto. Ma questo, ragazzi... Sì, assolutamente. Assolutamente. Poi Willow, ragazzi. Willow ne ha poche. Quante ne ha? Eh, poche. Ma questa no. Questa è molto bella. Manco me la ricordavo, ragazzi. Lei è veramente figa così. Ci sta assolutamente. Tranquilli che abbiamo quasi finito. Dug, regà. Ah, vabbè, non lo commento neanche. Anzi, forse mi piace di più la sua versione classica. Che ha questo colore un po' più vivace. Diciamo così. Chuck pure. Regà, ce n'ha una. Quindi qua pure. Non veramente. Sandy è uno di quei brawler di cui non saprei scegliere. Perché Sandy Koya è non solo carino, ma anche un po' troll, ovviamente. Sandy Lanterra, regà, ha quello spettacolo di ulti con l'animazione che è qualcosa di incredibile. E poi c'è Sandy Golosone che va a riprendere un po' tutti i brawler. Era molto carino il concetto del fatto che magari è un grande fan, no? Dello Star Park e tutte queste cose. Però, raga, vado assolutamente su Sandy Lanterna. Per quanto riguarda Ambra, ragazzi, vi dico la verità. Per quanto mi piace il fuoco e tutto il concetto che c'è dietro al brawler di Ambra, regà, regina dei ghiacci. Mamma mia, che roba che hanno tirato fuori. Ma anche con lei potrebbero fare molte più cose, eh. Anche con lei potrebbero fare molte più cose. Questa versione pirata del Megalodonte di Meg, assolutamente, assolutamente. Eh, regà, pure Energetic, sapete che è tosta? Perché sono tutte carine quelle di Energetic. Il Paladino Mecha, il Fai-Da-Te è molto carino. L'Energetic Kong è assurdo. Però forse il Kraken, sì. Il Kraken, regà, forse è quello un po' più particolare. Quindi mi sento di scegliere il Kraken. Per quanto riguarda Chester, regà, ci abbiamo il giullare oscuro, che comunque è carino, pure se potrebbero inventarsi cose molto più fighe anche per Chester. E per quanto riguarda, ragazzi, Cordelius, io vi direi che vado sul Cordelius Predone. È quello che c'ha una maschera che mi piace di più, più che altro. Beh, regà, detto questo, pensavo di metterci molto di più, vi dico la verità. Alla fine su alcuni non mi son potuto dilungare, regà, perché sennò veramente sarei dovuto sta qui a analizzare ogni singola skin e non mi sembrava il caso. Vi auguro ancora tanti, tanti auguri. Questo speciale Natale l'ho fatto un po' più particolare dedicandolo a Brawl Stars, alle skin. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora si è fatto, lasciando a me il mi piace. Vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ma soprattutto, appunto, ragazzi, vi auguro un buon Natale, un buon pranzone. Fatemi sapere nei commenti cosa vi mangiate e buone feste, ragazzi. Noi ci vediamo comunque domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!